Il mio sogno sono due. Il mio primo sogno è giocare nel mondiale e il secondo è salire al campione. Se sei Dio, sarai Dio per sempre. Chi è questo mago del pallone e vittima della cocaina che dopo aver chiuso con la droga si è tramutato prima in Falstaff e poi in un testimonial dell'obesità. Il gol inflitto da Maradona agli inglesi e ai mondiali del Messico fu una rivincita, un inno alla giustizia. Se non avesse fatto il calciatore sarebbe diventato un rivoluzionario. Non ci voglio molto, grazie per essere. L'Argentina è digna. Echiamo a bus. E' rivoluzionario nell'anima. Nel mio paese lo politico è sasenrico, però la gente non ne dà nada. Il modo in cui Diego Armando Maradona ha saputo farsi accettare è la prova che agli dèi tutto viene perdonato. Sabe che giocatore volevo essere io se non volevo tomare cocaína? Io sentia che i miei figli d'avano conto che io stava dormendo, che le daria un bello che sia così. Sì, però posso essere tanto puto di perdere questo? Io me equivoqué e pagué, però la pelota non si mancha. Io sono il nostro, vivo la vita come la quiero vivere. Io sono il nostro, vivo la vita come 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 la vita Grazie.